La cosa che differenzia Fortnite dagli altri Battle Royale è sicuramente la possibilità di costruire, infatti è un fattore molto importante per arrivare in posizioni alte in ogni partita. Ma vi siete mai chiesti quale sia la base più grande mai fatta su Fortnite? Se così siete nel posto giusto, infatti oggi vi farò vedere 5 basi più grandi su Fortnite. Al numero 5 abbiamo Kedda. Questo ragazzino insieme ai suoi amici ha costruito in una partita squadra una fortezza enorme e costruita interamente con ferro e mattone, almeno un'ottima resistenza ai colpi nemici e formata per la maggior parte da scale per uccidere più facilmente i nemici. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! Grazie a tutti! 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 As you look into my eyes Nothin' but a sinner You won't get away this time You won't get away this time You won't get away this time You won't get away You won't get away We've got a minute and 20, we've got a minute and 20, we're out of the zone We've still got a minute, okay, uh, are all the corners done as well? I believe so Oh my god That's it, that's it We've actually done it, right, everyone at the top, everyone at the top, everyone at the top And we'll do a little dance thing at the top Oh, we've actually built the world's biggest pyramid You know, guys, hold on Look at me Hey, seven, can you post with me as well in a minute? Yeah, yeah, man, we're just coming, come and join in This is amazing We actually did it Let's go, let's go Thank you so much, guys, for helping me out, man This is crazy Oh, okay, okay, okay I want to have a look inside Hey, seven, you want to sync it up by the top? No, 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 it's fine I'm going to have a look inside I want to get a different shot Everybody ride the pony at once You guys want to all ride the pony? Oh, wow, look at that, though Oh, I'm going to get it Look at it, it's huge, man There's 20, there's like 20 rows on every side This is insane This is like 80 rows of wood and then you've got the base Come on, come on You guys, thank you Look at that, wow Oh, 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 wow Grazie a tutti 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 Ma mentre giocava in singolo Ma non era proprio da solo Infatti giocava insieme a dei suoi amici Nella stessa partita e quindi si aiutavano a vicenda Comunque la base è così grande grazie a tutti i player Perché costruivano che costruivano nello stesso modo Spero che questo video vi sia piacere a tutti i suoi amici Spero che questo video vi sia piaciuto se in tal caso mettete un bel like commentate e iscrivetevi al mio canale e condividete con tutti i vostri amici Se vi piacciono i miei video di Fortnite ovviamente mettete un bel like e vi rimando al mio prossimo video che uscirà molto molto presto Ciao ragazzi